Pensare a un Hummer completamente elettrico fino a poco tempo fa sarebbe stata una pura eresia e invece il colosso americano crede in questo tipo di propulsione, stupendo così il mondo intero con una vettura che ha dell'incredibile. Numeri alla mano, la nuova Hummer elettrica è straordinaria, 1000 CV e 1200 Nm di coppia per muoverla da 0 a 100 km orari in soli tre secondi e mezzo. Il peso potrebbe farle guadagnare lo scettro di vettura più pesante del mercato, con i suoi 4,1 kg. Ma andiamo con calma, il nuovo Hummer EV sarà disponibile sul mercato americano in due carrozzerie, una pick-up e l'altra SUV, e porta con sé tante innovazioni interessanti. Grazie alla trazione integrale e alla funzione Crab Walk, tradotto in italiano come camminata da granchio, potrà muoversi diagonalmente. Le quattro ruote stersanti aiutano così le enormi Hummer a guadagnare agilità e a ridurre gli spazi di manovra per aumentarne l'efficacia nella guida off-road. Il nuovo Hummer disporrà di sospensioni pneumatiche e del nuovo sistema Ultra Vision, che grazie a delle telecamere posizionate sotto alla vettura, è in grado di mostrare il punto preciso dove mettere le ruote in fuoristrada, senza così dover ricorrere necessariamente ad uno spotter. Hummer elettrico sarà inoltre dotato del Super Cruise, il sistema di guida assistita sviluppato dalla General Motors, che promette di poter togliere le mani dal volante su oltre 320 mila chilometri di strade americane.